Perché se avessi avuto la certezza che le occasioni che sono capitate capitavano a Mauri, allora magari le cose sarebbero state differenti. Se avesse fatto gol Parolo, se avesse fatto gol Lucarelli, se avesse fatto gol a chi è capitato, non staremmo a fare queste ragionanze, sarebbe troppo semplice, insomma. Troppo facile, chi ha giocato ha fatto non bene di più. E la verità è questa. Quindi giocare 45 minuti in 10 contro 11 non è facile per nessuno, soprattutto contro le grandi squadre. E direi che il fatto che l'Inter sia riuscito solo al novantesimo, all'ottantanovezimo a fare il secondo gol dimostra la bontà della prestazione dei ragazzi che mi hanno reso ancora una volta orgoglioso. L'unica cosa che dispiace è il risultato, che secondo me è ingiusto e immeritato. Mi interessano poco queste cose, è chiaro che rimanere in 10 è sempre una difficoltà, questo è pacifico. Oltretutto siamo rimasti in 10 e subito abbiamo subito il gol, perché sullo stesso fallo abbiamo subito il gol e lì siamo stati poco bravi. Forse questa è stata un po' la cosa meno positiva, perché dobbiamo essere più bravi a leggere quelle situazioni e essere più attenti. Però insomma, poi gli episodi capitano e le situazioni si verificano durante una partita. Però per tutto quello che si è stato espresso nei 90 minuti, credo che il Parma oggi abbia dimostrato ancora una volta di non essere assolutamente inferiore a una grande squadra come l'Inter, fatta di grandi giocatori, di grande esperienza. e quindi tenere testa loro vuol dire avere spessore.